Il fascino ancestrale del cavallo, negli appunti del viaggio in Sardegna di 16 allievi dell'Accademia di Belle Arti di San Pietroburgo. Ci troviamo in compagnia di Pino Cadoni, presidente dell'associazione Caita, e qui è stata allestita questa mostra sui cavalli. Pino, buonasera a tutti e benvenuti in Sardegna, buonasera a tutti, ho il piacere di presentare i lavori degli allievi della scuola di scultura di San Pietroburgo, guidati in questo percorso affascinante nel mondo del cavallo e della contemplazione, della natura, delle tradizioni popolari sarde, dalla scultrice Janina Ansulevic. La mostra si propone nella sua diversità in uno spazio unitario dove il cavallo domina la mente ed il corpo di questi giovani artisti. Non soltanto il disegno ma anche la forma plastica a tutto tondo del cavallo in movimento. Naturalmente in un mese di lavoro si potevano rappresentare schizzi, progetti, idee, idee come speranza, la speranza della realizzazione di un'opera universale, il fascino ancestrale del cavallo. Janina, ci presenti questi giovani artisti e ci parli un po' della tua scuola dove insegni e perché questa mostra? Buonasera, io vorrei presentare allievi dell'Accademia delle Belle Arte di San Pietroburgo. Questi ragazzi sono tutti della facoltà scultura. Nella facoltà scultura è necessario studiare il cavallo come materia, studiare l'anatomia, come si usa, perché il cavallo dopo l'uomo è un animale molto molto importante. Di solito in questa Accademia, questo corso sempre si fa in mese di luglio. Prima noi facevamo questo corso in una zona di Cauca, di Sud Russia, ultimi anni abbiamo fatto nell'Istituto Incremento Ipico della Russia e quest'anno siamo riusciti ad organizzare questo corso in Sardegna grazie all'Istituto Incremento Ipico della Sardegna e al dottor Raffaele Cherche. Quindi la Sardegna è una terra adatta per questo tipo di studi? Sardegna è l'isola dei cavalli, la terra dei cavalli. Qui l'uomo vive ancora con cavallo e va in campagna con asino. Sono stati fortunati questi ragazzi perché in questo periodo sono riusciti a vedere le manifestazioni a cavallo più importanti come l'ardia di sedilo, come le pariglie, anche il sbrancamento di vitelli e anche tante altre manifestazioni. Visto che abbiamo la possibilità, sarebbe bello, sarebbe interessante sapere direttamente dai ragazzi quali sono le loro impressioni di questa terra, come si sono trovati e se questo corso è stato piacevole. Gaivar Wonskendri è il terzo anno dell'Accademia. Sardegna è il paese molto molto impressionante. Impressionante Nel suo impressione sono molto molto dinamiche, dopo l'ardia, dopo le pariglie, tante e tante dinamiche. 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 E in Sardegna. Dinamiche. E in Sardegna loro sono riusciti a vedere il cavallo in tutto il suo. dinamismo che ha, a vedere le manifestazioni, le pariglie, hanno capito perché cosa il cavallo c'è e si usa. Noi e le persone qui sono anche impressionanti. Noi anche la gente sono molto impressionante. Allona Smirnova. Allona Smirnova, il terzo anno dell'Accademia. Buonasera. Io sono molto felice di essere qui. Per me è stato un'esperienza molto serio, perché i coni e i coni sono sempre come i coni e i coni e i coni e i coni. Per lei è stato molto importante questo viaggio in Sardegna, perché prima lei non capiva il cavallo era un animale molto strano, perché lei non capiva neanche perché cosa serviva, come disegnarlo e perché dovevano disegnarlo e studiare. Era molto molto difficile di entrare qua nel ritmo, di capire un po', però dopo tutte queste impressioni che lei ha visto, è stato un colpo dell'ispirazione che lei quando guardava i cavalli diceva «Caspita, ma come sono bellissime, ma come sono bellissime». E voglio anche condividere un'attività, 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 che le persone che vivono in Sardegna, in centro di Sardegna, sono davvero molto piccoli. C'è una strana tradizione, un'attività, un'attività, un'attività. Ma la domanda di è occupazione, un'attività molto piccolo, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. mi piace, quindi... mi piace, quindi... abbiamo i nostri, quindi... le mie... mi piace, mi piace, anche se è un spettacolo, che... ...constantin ... ... ... ... ... come la prima pandella quando stanno a gare stanno a scendere il sole quando stanno a scendere i luci a scendere si sta dicendo che la cosa che ha colpito più di tutto sono la gente e la gente di sedilo che sono ribelli e anarchici e poi come l'ardia questa prima pandella che sta su fronteghedo sotto il sole con la luce del sole cadendo sembrava un spettacolo antico questa vita di far vedere come sanno andare come sono coraggiose che volete possiamo stare sul cavallo a piedi volete possiamo girare il cavallo così noi sediamo in tre il quattro scendiamo giù partiamo lanciamo il cavallo dalla montagna giù nell'arco e tutto questo il modo di fare con tanto coraggio con tanto argolo sono le cose che che colpite sono le cose che sono le cose che In Sardegna lei ha visto i cavalli liberi, che stanno liberi al Pasquale e non stanno chiusi nel box, nelle scuderie, come di solito. E questa è una grande differenza, che i cavalli non si scappano fuori, poi si scappano fuori, poi si scappano fuori, poi si scappano fuori, poi si scappano fuori, e poi si scappano fuori. Ma sono le cose che è da noi, ma anche non solo in Russia, ma in tanti altri paesi, anche in Italia, che raramente puoi vedere questa libertà. E di Alghero che impressione avete avuto? Algera in corno è diverso dal centro di Sardegna, dove noi stavamo praticamente tutto il tempo della nostra pratica. Questo è un paese, e le persone con l'arco sono completamente diversi. Sono più calzati. Alguera è una bellissima città, è completamente diversa dal centro Sardegna, dove sono stati quasi tutto il mese. Anche la gente sembra completamente diversa. Sono un po' un po' un po' che ci sia un po' un po' che ci sia un po' che c'è qualcosa di un po' che. Cosa sentire l'Italia è una altra scatola, in una stranata in un po' che specialmente. Consigli oggi molto, molto gente, attrezzalivi energia... le persone sono molto legate, l'atmosfera è molto legata, miagga, buona, buona, turisti o non turisti, corenni o no, ma ci diano sentimento di leggezza, dove si può provare qualcosa di tipo di italiano o di spagnolo. Dopo me, in Sardegna, Alguero si è brato come un'esplosione, che finalmente qui sono con la gente, la gente che ti dà energia, lei ha sentito questa leggerezza adesso che lei può rilassarsi e sentirsi come ospite, come turista. Lavorare qui in Alguero non è possibile. Si, io ho capito che la pratica è qui per andare... Per esempio questa corsa che abbiamo fatto in centro Sardegna, farla in Alguero è una cosa impossibile. solo attraversi. Puisi, pausse, 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 pausse. Grazie. Grazie.